La seconda parte del 2021 passerà alle cronache del nostro settore anche per aver visto il debutto della nuova serie alpina. Ora, di alcune cose già potevamo intuirle con la Dora, alcune linee guida in tema di design, però prima dobbiamo dire una cosa, ovvero che l'alpina è qualcosa di molto serio. Perché? Perché è una delle serie storiche, più storiche dello storico che c'è in casa Adria e ricordiamoci che è in linea diretta la continuazione della serie C che aveva sbancato completamente sul mercato scandinave. Tant'è che ancora oggi, se Adria è numero uno tra gli stranieri, deve molto alla fama di caravan inossidabile, costruita benissimo, eccetera, che si era costruita in quegli anni e che poi è stato potuto mantenere sempre. Quindi questa alpina bisogna vederla anche in una certa ottica. Per questo iniziamo con questo modello che è 7S3UK. Perché? Perché è sicuramente delle dimensioni generose, ma con una disposizione interna che è un classico, è tipico delle caravan svedesi. Tant'è che è una delle classiche piante svedesi. Non solo, ma con una telaistica importante, perché telaio doppio asse su Knot, che in questo momento sui telai doppio asse sta dicendo molte cose interessanti, sta proponendo molte soluzioni veramente importanti. Iniziamo a guardare l'esterno. Come volevasi dimostrare, vediamo che anche qui le maniglie, esattamente come avevamo visto nella serie d'ora l'anno scorso, hanno uno sviluppo che è verticale e non più orizzontale, con una penetrazione in termini di CXS, quindi sezione frontale dell'aria, veramente significativa. Family feeling anche per il posteriore, che riprende i proiettori sviluppati prima per la stella, con tutta la parte posteriore che dichiara ispirazione ad ora. Come da tradizione Adria, pannello di controllo completissimo, sopra l'ingresso della porta e notare anche il computerino per gestire il riscaldamento ALDE. Sul riscaldamento termosifone ALDE è importante aprire una parentesi, ovvero già la C740, quindi parliamo della doppio asse Adria lunga 7,40 m e parliamo anche della seconda metà degli anni 90, aveva di serie riscaldamento all'epoca Primus che è poi diventato ALDE. Benissimo, ci siamo. Oggi, ovviamente, ancora oggi, Alpina ha riscaldamento ALDE. Ad ora ce l'ha richiesta su alcune, di serie su altre, ma comunque quello è il punto. La domanda è, come mai scandinavi, inglesi, Adria, quando si arriva a certe dimensioni il riscaldamento è ALDE, altri ce l'hanno richiesta. Cioè, lo vogliamo capire che quando la lunghezza, quando la cubatura interna delle carame è a un certo livello, il riscaldamento deve essere ALDE e lo deve essere di serie. Non si può neanche fare i furbetti di non metterlo, per poi renderlo optional o obbligatorio, così si fa la figura di avere prezzo di listino più accattivante. Dai, su! Ed ecco la cucina, classica cucina alla scandinava, quindi anche col forno a gas. Il frigorifero è il classico con il freezer separato. Abbiamo anche il portatelevisore che è di fronte alla cucina. Ed ecco il corridoio con il letto matrimoniale fisso, alla francese, in coda la camera per bambini. Con i letti a castello e questa splendida dinette AL, il vano a toaletta, tutto quello che deve avere. Quindi vediamo sulla sinistra il termosifone del riscaldamento, bc a cassetta, il lavabo a ribalta, che è quindi di grandi dimensioni, e la possibilità di fare la doccia. Potevamo parlare anche di altro, di questa alpina. Potevamo raccontare del pavimento in vetroresina, potevamo raccontare della cura dei dettagli, della reazione dei pensi, di maniera tale che se uno ci lascia maglioni d'inverno comunque non hanno il doristantivo. Potevamo parlare di tantissime cose, della piccola abajur che c'è sul mobiletto che si può staccare, perché sotto comunque ha il collegamento per cui è sempre sotto carica, la si può staccare per portarla all'esterno. C'erano tantissime, tantissime cose di cui parlare. Ma io credo che abbiamo preferito giustamente soffermarci su alcuni punti qualificanti. E non solo, ma quello che bisogna sapere alla fine di questa caravan, ve lo dice la prossima immagine.